Anche il Comune di Castrovilla riaderisce al protocollo d'intesa con la società Remunero, una start-up innovativa impegnata in progetti di sviluppo economico per il miglioramento della qualità ambientale del territorio. Il protocollo garantisce un premio agli utenti in regola con la tassa rifiuti. L'obiettivo è quello di cercare di abbattere i costi dell'Atari, in che senso? Nel senso che gli cittadini che avranno dei comportamenti virtuosi, cioè saranno dei buoni cittadini, cittadini che pagheranno il tributo e che non avranno sanzioni perché hanno abbandonato i rifiuti, ad esempio, avranno la possibilità di avere una carta sconto con la quale, presso le attività commerciali convenzionate, potranno andare a recuperare in sconti quinti il totale complessivo della bolletta Tari pagata durante l'anno. Obiettivo comune è quello di migliorare la qualità dell'ambiente in cui si vive, di pagare meno tasse e di incrementare l'economia del territorio, in particolare sul chilometro zero. L'intero importo viene accreditato, l'intero importo pagato della Tari viene accreditato su una carta, il cui conto lo apriamo noi, e questa carta viene rispesa all'interno del territorio dal quale la Tari proviene. Quindi questo fa in modo che la carta possa essere spendibile solo all'interno di questo territorio e non all'esterno, e questo per costituire un incremento decisamente interessante dell'economia del territorio. Quali le caratteristiche che il cittadino deve avere per ricevere questa card? Bisognerà essere in regola con i pagamenti. Grazie a tutti.